Ciao, come vi avevo anticipato ci vedremo un pochino qui sul balcone e oggi faremo una meditazione molto semplice che si chiama Cloud Salutation. È una meditazione in movimento e sarà semplicissima, qualcuno dei miei allievi l'ha già provata e ci servirà per aumentare le difese immunitarie, per calmare il nostro stato che è un po' ansioso forse in questi giorni e anche per respirare insieme. La parola meditazione non vi deve spaventare, saranno cose molto semplici, più semplici di quello che potete immaginare. La musica è del maestro Roberto Cacciapaglia, che ringrazio e saluto. Respira, rallenta e respira. Inspira. Tocca il piede. cielo, espira, scendo verso la terra. Espira, spira, sollevo. Trovo un punto per il mio equilibrio. Tristino. Espira, sollevo. Trovo un punto per il mio equilibrio. Tristino. Espira, sollevo. Tristino. 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 Trist Grazie a tutti. Grazie.